Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri al dono, tanti auguri a te. Discorso, 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 discorso. Io ho trovato un po' il volume, potete alzare il volume. Antonio vai, discorso. Silenzio. Non ti rende come lo discorso. Allora, vi ringrazio tutti. Ok, va bene. Su ognuno di voi posso dire qualcosa, qualche avventura, qualche ricordo particolare che ho di voi. Non posso adesso dire tutto, se no ci impiegherei ore, tutti i ricordi, le presentazioni. Ognuno di voi mi ha dato qualcosa in particolare. mi ha dato qualche cosa di particolare. Qualche ricordo, qualche insegnamento che mi hanno fatto essere quello che sono adesso. Quindi si trovate un'occasione negativa, fignate meglio di voi stelle. Settate un'occasione negativa. Grazie.